Buonasera, intanto ringraziamo Susanna Di Pietra che anche questa sera ci assiste nel corso di questa conferenza stampa. Ringrazio il professor Massimo Antonelli, direttore del Dipartimento Emergenze e Rianimazione del Policlinico Gemelli. Voglio anche ringraziare il professore Guidi che questa sera è qui con noi e col professore Guidi abbiamo un lungo rapporto e la sua presenza mi permette di dire in apertura di questa conferenza stampa quanto sia importante il tema della disabilità anche per quello che riguarda il coronavirus. Noi come protezione civile, col nostro sistema di protezione civile, siamo accanto alle persone disabili e quindi lo voglio ringraziare perché mi ha permesso in apertura di richiamare questo importante tema che coinvolge la nostra società, le nostre famiglie e quindi per noi è molto importante questo tema. Partiamo dai dati di oggi. Ad oggi il totale delle persone attualmente positive è di 104.291 con un incremento di 675 rispetto a ieri. Prosegue il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 3.186 pazienti in terapia intensiva, sono 74 in meno rispetto a ieri e il numero dei pazienti ricoverati con sintomi sono 28.011 con una diminuzione di 12 rispetto al numero di ieri. Mentre la maggior parte dei pazienti affetti da coronavirus sono in isolamento domiciliare senza sintomi e con sintomi lievi sono il 73.094, il 70% dei pazienti positivi. Il numero dei morti registrato oggi è 602, 602 nuovi deceduti. Il totale dei guariti sale a 37.130. Il numero dei guariti oggi è 1.695 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda le forze in campo voglio ricordare i nostri volontari. Oggi sono 10.598 volontari che si aggiungono alle strutture operative, ai Vigili del Fuoco, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, al personale sanitario, al personale delle Regioni. E a proposito dei nostri volontari voglio anche ricordare e ringraziare il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, per le belle parole che oggi ha avuto nei confronti dei nostri volontari di protezione civile. Ha definito il nostro volontariato di protezione civile come il cuore pulsante dell'Italia più bella, una risorsa a cui non possiamo rinunciare. E' proprio così e lo ringrazio per aver voluto ricordare i nostri volontari. Per quanto riguarda il dato relativo alle somme raccolte sul nostro conto corrente, la cifra cresce ancora una volta oggi. Siamo a oltre 122 milioni di euro, 122 milioni 511 mila e 65 euro raccolti finora sul nostro conto corrente. Come sapete queste risorse andranno per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per l'acquisto dei ventilatori. A oggi abbiamo già speso 26 milioni di euro per l'acquisto di dpi e ventilatori. Infine un ultimo cenno, lo voglio fare, aprendo una parentesi su quella che riguarda la questione dell'Alan Kurdi e più in generale riguardo alla situazione degli sbarchi dei migranti e della loro quarantena, sorveglianza sanitaria. Come ho già detto nei giorni scorsi ho nominato soggetto a tutore il capo dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione, il prefetto di Bari, che voglio ringraziare insieme con il ministro Damorgese e gli altri ministeri che si stanno occupando di questo aspetto e il soggetto a tutore sta lavorando per individuare quelle che sono le soluzioni, come vi ho detto, sia per quanto riguarda la possibilità di fare le quarantene sulle navi che per trovare dei luoghi, delle strutture o anche delle aree a terra. Quindi siamo in una fase di valutazione delle misure da mettere in campo, per cui anche quelle notizie che erano emerse in queste ore sulla stampa relativa all'utilizzo di una specifica nave, sono in realtà ancora al vaglio del soggetto a tutore. Questo ci tenevo per fare un'opera di chiarezza rispetto alle informazioni che erano anche state date nel corso della giornata. A questo punto darei la parola al professore Antonelli. Prego professore. Buonasera a tutti. Io vorrei fare un approfondimento insieme a voi sui numeri delle terapie intensive che sono andati certamente in miglioramento. Grazie alla collaborazione con il professor Grasselli della Lombardia abbiamo potuto effettuare un paragone sul quale possiamo ragionare insieme. I ricoverati in terapia intensiva nell'arco delle ultime quattro settimane, quindi in totale, in Lombardia sono stati 3.862. I dimessi 1.296, i degenti attuali 1.240, con un 65% di sopravvivenza. Per quello che riguarda il Lazio, dove l'impatto evidentemente è stato più contenuto, i numeri sono più bassi e infatti in un lasso di tempo simile, anche se non identico, noi abbiamo circa 500 pazienti, per la verità 424. Un quarto di questi è stato dimesso ed un altro quarto è ancora degente, ma il tasso di sopravvivenza è assolutamente identico, cioè del 65%. Cosa ci dicono questi dati? Secondo me dicono alcune cose importanti. Il primo è che molto è condizionato dal grosso impatto che, proprio per l'emergenza che si è tradotta a livello Lombardo, c'è stato su quelle terapie intensive e il fatto di aver potuto beneficiare della messa in atto delle terapie e delle misure di contenimento, ha fatto sì che in altre aree questa mitigazione potesse pesare di più, riducendo il numero e il flusso verso le terapie intensive. Però ci dice anche un'altra cosa, che la severità dei malati, indipendentemente dai numeri crudi, è in realtà simile. Tanto è vero che l'entità della sopravvivenza e gli indici di gravità sono comparabili con due regioni che hanno avuto un impatto diverso. Allora la conclusione di questo piccolo raffronto può essere che, primo, le misure hanno funzionato e funzionano bene, nel poter far sì che anche un impatto che temporalmente può essere importante nelle singole regioni sia più contenuto e quindi le risorse siano in grado di poter far fronte. E la seconda cosa è che stiamo parlando di pazienti che hanno una notevole soverità ma che, indipendentemente da dove si trovino, l'efficacia delle terapie intensive, che sono soprattutto di supporto, possono arrivare ad una sopravvivenza che, i malati così seri, è una sopravvivenza di tutto rispetto. Bene, diamo spazio alle domande. Ci sono domande? Sì, avevo avuto notizia che... Volevo ringraziare Angelo per l'ospitalità veramente squisita. Però mi corre l'obbligo ringraziare Francesco Varicovici che mi ha permesso di venire qui come giornalista, tra virgolette. Angelo, io volevo farti una domanda che però non ti appartiene. Volevo prima dire che mi accomuno a Sassoli, all'amico Sassoli, che ti definisce a te e alla presenzione civile il cuore pulsante dell'Italia. Io vi definirei più, da vecchio neurologo del Policlinico Gemelli, la corteccia cerebrale dell'Italia. Perché voi non siete un valore aggiunto. siete del valore perché date quell'idea di dare senza chiedere che sarà il nostro futuro e che si chiama democrazia. Quindi ti ringrazio a te per ringraziare anche chi rappresenti in maniera degnissima. Scusate il fiatore, ma con queste mascherine e l'età non ce la faccio. Volevo, se c'era brusaferro, fare una domanda un po' scomoda. Perché in questi anni è stato cancellato il servizio di epidemiologia che, soprattutto con il mio amico greco, poteva fare un intervento precoce e diffuso su tutto il territorio nazionale. Alcuni tuoi ospiti hanno delle responsabilità forti nell'avere smantellato questo servizio, ma ne riparleremo quando saremo tutti più tranquilli, spero presto. Tu mi hai tolto la domanda di bocca e ti ringrazio. Credo che i politici, la scienza, soprattutto i mezzi di informazione, di comunicazione di massa, si siano un po' dimenticati di dare il nome alle cose. Io sono un po' la psichiatra, un ammiratore di Winstein, dove la parola è sostanza. Quindi parlare di fragili non serve. Bisogna dare un nome alle cose. Esistono 7 milioni di persone con disabilità che hanno una costellazione enorme e, finisco, di grandi potenzialità. Non sono soggetti di assistenza, ma sono una risorsa per il Paese, sempre, qualunque sia la loro condizione. Però c'è chi ha problemi di apprendimento, c'è chi ha problemi muscoloscheletrici o neurologici, problemi di autismo, problemi di difficoltà di muoversi. Quindi le soluzioni sono molteplici. Non possono partecipare più ai centri di riabilitazione. L'assistenza domiciliare è difficile per paura del contagio degli assistenti. Non possono fare spesso teleravoro normale o scuola lavoro perché devono avere assistenti personalizzati. io ho finito, Angelo, e ti ringrazio per quello che hai detto prima e quello che fai in concretezza. Ma io vorrei... Non serve, vedi, che il Presidente del Consiglio, un po' così in difficoltà per tanti motivi, anche giustificabile, metta in una commissione un esperto dell'osservatorio che poi, insomma, invece di osservare, poteva essere più concreto. Utilizziamo le nostre competenze, la scienza, ma soprattutto le associazioni, l'ANFAS, l'AIAS, la FAND. Soprattutto, e me lo diceva Romeo stamattina, con l'onorme generosità, usiamo le associazioni per creare insieme una sinergia e per far sì che intanto si proteggano le persone con disabilità nelle loro molteplici forme e quindi mi garantisco pure io che il suo rischio per l'età e per la disabilità, datemi una mano, insomma, voglio strammatizzare. Ma davvero diamo un nome alle cose perché una parte notevole della società aspetta risposte finalmente. E, Angelo, tu mi capisci, concrete. Grazie. Antonio, io ti ringrazio. Non ci vedevamo da qualche tempo, ma tu sai che nella protezione civile il tema della disabilità è un tema che abbiamo sempre trattato e abbiamo sempre ben presente. Nelle nostre molteplici emergenze noi ci preoccupiamo delle persone disabili e sono i primi ai quali dobbiamo preoccuparci. Nei confronti ai quali dobbiamo preoccuparci perché sono quelli che hanno più bisogno di aiuto e la protezione civile nostra è questa. All'interno del nostro Dipartimento, lo sai, sono almeno 13 anni che abbiamo un progetto che si chiama Abili a proteggere. Abbiamo dei ragazzi disabili che collaborano con noi che ci hanno permesso di far crescere un percorso di protezione civile sul tema della disabilità. Le nostre organizzazioni di volontariato sono proiettate nei confronti delle persone con disabilità. Ognuno di noi, nelle nostre famiglie, abbiamo un disabile e quindi a loro va tutta la nostra riconoscenza, ma va tutto il nostro impegno. Per quello che ci riguarda come Dipartimento della protezione civile, ma anche in questa emergenza, come sistema delle emergenze, ti posso assicurare che mi sono preoccupato anche personalmente di casi specifici, come il caso di Troina, chiamando il Sindaco l'altra sera, dove c'erano dei ragazzi con disabilità ed erano ospitati in una struttura che aveva delle difficoltà. Noi siamo qua per questo. È il nostro lavoro e vorremmo vedere i disabili poter avere una vita il migliore possibile, come per tutti quanti noi. E ti posso assicurare che noi ci saremo sempre nei confronti delle persone con disabilità. sugli altri temi poi Brusaferro ti potrà rispondere anche domani, nel corso della sua conferenza, che farà l'Istituto Superiore di Sanità. Però ecco, ci tenevo a dirti che noi siamo con i disabili e con tutti coloro i quali hanno bisogno di assistenza, altrimenti non esistirebbe la protezione civile. Grazie Antonio. Grazie. Grazie per la collettora News24. Ho una domanda per il professore e una domanda per lei. Parliamo di terapia intensiva. Lei già prima ha spiegato come mai stanno diminuendo in un numero così consistente perché parliamo ormai di 11 giorni di segno meno davanti. Ma è anche possibile che sia un segnale di una minore virulenza del Covid? Così come diminuiscono anche gli ospedalizzati, quindi può essere anche un segnale di una minore virulenza del Covid. Invece a lei, dottor Borrelli, volevo chiedere, oggi vi siete visti con la task force insieme alla task force degli economisti, insieme al Comitato Tecnico Scientifico. Che cosa è venuto fuori? Perché si parla tanto in queste ore di riapertura, di esercizi commerciali, quindi dal punto di vista economico una ripresa. Dall'altra parte la fase 2 potrebbe anche prevedere una nuova, libera circolazione dei cittadini, controllata. Cosa è uscito fuori? Chi c'era? C'era anche Colau? Volevamo soltanto sapere come è andata questo incontro. Grazie. Grazie per la domanda. Da un punto di vista squisitamente intensivologico direi che la severità dei pazienti che arrivano è sostanzialmente la stessa, almeno nel nostro ambito. Quindi è difficile darle una risposta se si tratta o meno di una riduzione della virulenza del virus. Cosa che non credo. Ritengo piuttosto che ancora una volta le misure di contenimento adottate abbiano giocato un ruolo maggiore. Allora sulla task force voglio dire che oggi c'è stata un'altra riunione. La task force sta lavorando con grande impegno però non posso dire alcunché sui lavori di oggi. Non ritengo, non sarebbe corretto fare alcuna rilevazione, rivelazione di quello che è l'attività della task force. La task force farà il proprio lavoro e poi sarà il presidente a decidere, il presidente della task force, cosa comunicare, quando, come e ovviamente il lavoro della task force è a beneficio del presidente del Consiglio dei Ministri e del Governo che dovrà prendere le decisioni. Buonasera, Giorgia Sodaro a DN Cronos. La domanda per il professor Antonelli. L'altro giorno la presidente della Commissione europea ha dichiarato che gli anziani dovranno stare in casa fino a fine anno, gettando un po' nello sconforto tutta la nostra popolazione anziana. Volevo capire se lei, come membro del Comitato Tecnico Scientifico, condivide questa posizione. Credo che noi, da un punto di vista proprio temporale, non abbiamo elementi per dare una data precisa. Vale piuttosto un'altra considerazione, che è ovviamente stata tante volte ripresa. E cioè che, quando parliamo di anziani, parliamo della fascia di popolazione effettivamente qui più fragile e che, ricoverata in ospedale, incluse le terapie intensive, sono quelli che tuttora pagano il prezzo maggiore. E di conseguenza avere verso questa fetta di popolazione così importante una tutela maggiore, senz'altro è indicato. Che poi si imponga loro di rimanere in casa fino a dicembre, chi può dirlo? Bisogna vedere anche l'andamento e le cose che avverranno epidemiologicamente nei prossimi mesi. Romana Ranucci, Italpress. Volevo sapere a che punto siamo con l'unità di cura domiciliare. Perché molti esperti ci hanno detto che una volta passata la fase emergenziale, quindi si è ridotto l'accesso negli ospedali e nella terapia intensiva, adesso è importante occuparsi della fase dell'assistenza domiciliare. Quindi, soprattutto in vista della fase 2, per riprendere, appunto, ad aprire, cominciare a aprire anche le attività lavorative, in che modo si sta organizzando, rafforzando l'attività domiciliare e riprendo anche la questione delle persone con disabilità che hanno difficoltà a recarsi negli ospedali. Posso dire che è all'esame del CTS, in approfondimento, un piano che prevede naturalmente il coinvolgimento attivo e importante con un rafforzamento della medicina territoriale. Siamo in una fase, anche futura, ma anche attuale, dove la sinergia che deve esserci tra gli ospedali e il territorio è forse la chiave di volta che può aiutare per il futuro a tutelare nel miglior modo possibile questa porzione di popolazione che è bisognevole di un aiuto costante, duraturo e assolutamente senza nessun passo indietro. Buonasera, Savarese, agenzia Asca News, al capo della protezione civile. Una domanda che si fanno un po' tutti gli italiani, ma anche nel governo, insomma, c'è grande discussione se lei consiglia di prenotare o no le vacanze estive. E nel caso sono, insomma, problemi... È lecita la domanda. Esatto. E nel caso se sono ipotizzabili delle restrizioni particolari, ad esempio, svolgere le vacanze nella regione di residenza, nella sola regione di residenza. Grazie. Guardi, io non so rispondere, ma credo che nessuno sappia rispondere. Proviamo a chiedere al professore Antonelli se dal punto di vista scientifico lui ci può dare una risposta. Professore, che dice? In tutta onestà penso che nessuno veramente lo sappia e quindi qualsiasi risposta che dia un dettaglio preciso non sarebbe molto attendibile. Buonasera, sono Claudia Fusani per Tiscali News. Ho una domanda per entrambi. La prima è per il Commissario Borrelli. Allora, al momento abbiamo Comitato Tecnico Scientifico. Quanti siate più o meno? 20, 30, 40? Quanti siate? Circa. La geometria variabile. Dipende. Dipende dagli argomenti. Dagli argomenti. Si è aggiunto la task force con Colau per la fase 2. Leggendo il decreto che ha istituito questa task force, vediamo, sappiamo che comunque la task force della fattispecie non è che potrà decidere, deve ovviamente rapportarsi prima col Comitato Tecnico Scientifico e poi col Governo. Nel frattempo le Regioni già stamani hanno dimostrato che anche sulla fase 2 stanno andando in, come dire, in ordine sparso. Allora, la domanda è questa. A volte abbiamo anche fatto alcuni pensieri in questo periodo, quanto serva un punto, come dire, qualcuno che decida per tutti. La domanda è, tutti questi comitati, alla fine, chi decida, non mi dica il Governo, per favore, perché... Eh, vabbè, ma insomma... No, eh, no... Allora, noi vogliamo sapere chi deciderà, quando, vorremmo sapere delle date, vorremmo sapere alcune tempistiche, le Regioni cosa devono fare, domani l'Europa darà linee guida per l'Europa, quindi fino a che punto peseranno per le nostre linee guida, questo. E la seconda domanda, mi ricollego alle 7 milioni di persone con disabilità. Ci sono in Italia anche moltissimi pazienti cronici, con malattie croniche, diabete, cose del genere. Ce ne sono tanti. In questo momento sono abbandonati. Vengono mandati fuori, mandati a casa, non possono avere cure, perché l'assistenza domiciliare non c'è, negli ospedali, nelle residenze non li vogliono, perché magari le residenze sono diventate centri Covid. Quindi a questi malati, che sono tanti, il Comitato Tecnico Scientifico ci sta pensando? Grazie. Allora, parto dalla risposta del Comitato di Esperti. Allora, io credo che questa pandemia ha dimostrato a livello mondiale come ci sia bisogno di dare una risposta che vada a toccare i diversi settori della nostra vita. Quindi non soltanto l'aspetto sanitario che è curato dal Comitato Tecnico Scientifico, la parte relativa all'operatività, protezione civile, commissario Arcuri, ma c'è anche tutta la parte sociale, economica. Quindi io credo che la scelta del Governo, del Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha deciso di nominare questo Comitato, sia stata una scelta giusta, perché permette di avere a chi deve decidere. E mi permetta di dirlo che questa non è un'emergenza nella quale può decidere il Capo Dipartimento della Protezione Civile, commissario delegato, un altro commissario delegato. Sono questioni che attengono interessi essenziali della nostra collettività che devono essere decisi al massimo livello di decisione, quindi a livello di Governo, con un coordinamento anche con le Regioni per gli assetti normativi e costituzionali che noi abbiamo. Quindi, le ripeto, credo che il Comitato di esperti fornirà il proprio contributo nei tempi che saranno necessari per consentire di prendere le ulteriori decisioni da parte del Governo. Mi dispiace se dico questo, ma è così. Non può che essere il nostro Governo, non può che essere il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, che lavora notte e giorno su questo tema, a dover poi prendere le decisioni. Se posso anche dare in questo senso un contributo, forse vale un termine di paragone. Nella medicina moderna, quello che oggigiorno vale, al di là delle competenze specifiche, è la collaborazione e la multidisciplinarietà. Ognuno per le proprie competenze e, di conseguenza, anche questo si applica a situazioni, come è la gestione complessa e difficile di questa emergenza, con competenze le più varie che collaborano. Quindi, mi perdoni il Dottor Borrelli se do questa aggiunta. Invece, in merito alla sua domanda, io allargherei ancora di più il compasso, nel senso che il problema è ancora più complesso. Questa emergenza sanitaria ha inciso non solo sulle lungodegenze, chiedo scusa, sulle persone che hanno o disabilità o patologie croniche a casa. Bensì ha agito anche su tanti altri malati, come ad esempio i malati oncologici, che sono in attesa di interventi e i loro interventi sono stati rimandati. E in questo senso, sia il CTS e di conseguenza, a livello territoriale, molti degli ospedali e le regioni si sono orientate... Aspetti, la vedo scettica. Ma si sono orientate... Mi faccio a finire. Intendo dire una cosa diversa. Intendo dire che le regioni si sono orientate verso una scelta, che è la scelta che sarà poi, tra breve, sempre più sostanzializzata, dei Covid Hospital. Perché? Perché il Covid Hospital, che consente di poter concentrare con le dovute competenze e cautele, in un ambito specifico, i malati purtroppo colpiti dal Covid-19, offre anche la possibilità di decongestionare gli ospedali, che in questo momento sono, direi, ancora intasati e non possono avere il normale flusso dei pazienti trattando le loro patologie, sia a livello ambulatoriale che, ancora di più, in una complessità chirurgica o multidisciplinare oncologica, che in questo momento purtroppo segnano il passo. Quindi quella è una strategia, una delle tante strategie messe in atto per non solo dare una risposta, ma incominciare in questo processo, che sarà non facilissimo e non brevissimo, per poter ritornare ad una normalità assistenziale negli ospedali. E nel frattempo tutto ciò che è possibile attuare con le ris... Sì, certo, ma questa è una cosa che sta avvenendo in tutto il mondo, nel senso che le difficoltà oggettive che ci sono pongono dei problemi in più e fanno sì che alcune persone purtroppo o per loro stessa paura di recarsi negli ospedali o per molti altri motivi non riescono a ricevere l'assistenza che prima invece ricevevano, magari con alcune difficoltà o carenze, ma che comunque arrivava. Ma su questo si sta tutti quanti lavorando insieme e qualche risposta a livello territoriale, almeno in alcune zone, si incomincia a vedere. Buongiorno, Giuliano Bormioli, Agenzia Nova. Io vorrei fare una domanda al Professor Antonelli, in quanto membro del Comitato Tecnico Scientifico, di cui ricordo fa parte anche l'INAIL. Io vorrei sapere chiaramente, il Comitato Tecnico Scientifico, che indicazioni ha dato al Governo sulla riapertura di alcune attività? Mi spiego. In presenza di accordi sindacali della singola azienda, in presenza delle misure di sicurezza garantite come richiesto dall'INAIL, il parere del Comitato Tecnico Scientifico è quello di poter riaprire o no? L'altra domanda, mi ricollego al tema della disabilità, proprio visto che si è parlato della grande attenzione che si dà anche alle persone disabili, io vorrei chiedere se si è pensato, anche in tempi rapidi, provvedere in via prioritaria al tampone per chi assiste queste persone disabili. Non parlo solo degli operatori sanitari, ma parlo anche dei familiari, perché molto spesso in famiglie in cui c'è una persona disabile e un solo familiare che si occupa della cura di quella persona disabile, se il familiare viene meno, viene da sé che il disabile non ha più possibilità. In un momento in cui, ricordo anche che molti centri per disabili sono chiusi, le attività in molti casi ben radicate sui territori, per ovvie ragioni sono ferme, quindi diciamo la responsabilità di un disabile e ricade solamente sulla persona che se ne occupa, perché non si è provveduto a fare per questa categoria di persone dei tamponi. Ripeto, ne va anche della vita delle persone che assistono. Grazie. Guardi, in qualità di membro del Comitato Tecnico Scientifico, io rimando a chi in questo ambito è più competente di me. Posso semplicemente dirle che il lavoro è un lavoro complesso che soprattutto dai membri che fanno parte del Comitato e che hanno una competenza specifica come nell'Inail, assieme a tutti gli altri si è delineato un profilo che andrà poi applicato. è in questo momento in fase finale di elaborazione e per questo poi i miei colleghi sapranno darle una domanda più precisa, una risposta più precisa. Per i tamponi è una delle possibilità che si può mettere in campo, è ovvio che si sta procedendo, ma la richiesta dei tamponi è molto complessa, nel senso che inerisce una tale quantità di persone che a volte questo va coniugato con una praticità e sostenibilità. Quindi ad oggi il Comitato Tecnico Scientifico non ha predisposto l'ipotesi di effettuare i tamponi alle persone che assistono disabili? Certo che lo ha predisposto, ma si cerca di andare di pari passo con le esigenze che non sono solo di chi assiste ai disabili e in alcuni casi il tampone viene, ma di dare una priorità in base alle possibilità oggettive che si hanno in mano nell'effettuare il tampone. Bene, allora, finiamo qui. Grazie a tutti, buonasera.